Perché farà un brano di Mina scritto da Alex Britti Oggi sono... Se non potessi guardare un po' di domani E tutti, 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 tutti Ma quando un po' ti vedo c'è qualcosa che non lo ha Che non riesco a dirti neanche come stai Ma ora stai, viene un po' di fatale Ma ora stai, viene un po' di dolce Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi Senza quella sensazione che non mi fa di Che mi canci per davvero Anche se non te l'ho detto Perché sbagli do romanzi Solo per portarli a letto Non mi ne frega niente E dovrò aspettare ancora Che parlassi finalmente Dissi solo una parola Ma non c'è più che passo Come male, come scasso Finalmente mi ripeto Ma non c'è più che passo Ma non c'è più che dobbiamo Ma questo e che noi non c'è più Ma non c'è più che dobbiamo Ma non c'è più che dobbiamo Dire se non te l'ho detto, perché è giusto trovarci, solo per portarti a letto, che non viene bene niente. Devo aspettare ancora, per portarti finalmente, dirti solo una parola, ma non c'è più che posso, non è male come stesso, questa volta l'ho detto, perché è giusto stare qui ancora, con una bella compagnia, e sempre a me non perderò il volo, e prenderò l'amore, l'amore in vita, e non so pensare tu davvero, ma forse sei solo un'illusione, La stasera mi la confesso a te, che stimo nel razzare, non c'è più che posso, non è male come stesso, finalmente mi pretendo, perché oggi sono io. Grazie Grazie